Sì, abbiamo fatto un'ottima prestazione, siamo venuti qua, sapevamo che era una gara difficile e siamo stati bravi noi a ribaltarle inizialmente perché non eravamo partiti colpiglio giusto e quindi abbiamo concretizzato tutte le palle che ci sono capitate e dopo quando la Ternana era in dieci abbiamo gestito bene la palla, anche se potevamo fare meglio io in primis per il gol sbagliato, però va bene così, abbiamo sofferto tutti assieme, questo vuol dire essere squadra Sono un ragazzo autocritico e quindi dovevo fare gol e dovevo chiudere la partita infatti ero arrabbiato, un po' perché sono arrivato stanco, un po' perché ho sbagliato, un po' per tutto per non aver fatto quel terzo gol, però abbiamo fatto una grossa prestazione in un campo a mio parere difficile per me la Ternana è una squadra forte perché i nomi giocatori li ha e sono un'ottima squadra quindi non è stato facile, devo fare solo complimenti a noi stessi, allo staff e tutto perché stiamo credendo in quello che proponiamo durante la settimana No, sicuramente i primi 15 minuti noi abbiamo fatto male, non riuscivamo a trovare spazio dopo la Ternana ci aveva il pallino del gioco, noi troppo bassi poi come si dice, una volta che prendi lo schiaffi incominci a giocare abbiamo preso il gol di Falletti e lì è incominciata la nostra partita abbiamo incominciato a creare occasioni e a concretizzarle nel miglior modo possibile e quindi questo ci ha portato ai tre punti qua in questa trasferta difficilissima Grazie a tutti